A pochi giorni dalla presentazione del piano relativo agli interventi infrastrutturali che verranno effettuati sulla strada salaria nel Piceno, grazie all'impegno del commissario Fulvio Maria Soccodato, esulta anche il Partito Democratico. Il piano prevede il miglioramento funzionale e il potenziamento del collegamento stradale tra Ascoli e Roma e si compone di 54 interventi per un investimento complessivo di oltre un miliardo e mezzo di euro. Grande soddisfazione per il segretario provinciale del PD Francesco Ameli. Tra le priorità del governo Conte II vi era la nomina appunto dei commissari, commissari per alcune opere straordinarie che dovevano essere terminate nel territorio nazionale. Una di queste era la strada salaria. Noi spingemmo fortemente affinché venisse inserita appunto tale strada, tale opera tra le opere da commissariare e siamo stati contenti quando abbiamo letto il nome dell'ingegner Soccodato come commissario per la strada salaria. Oggi a distanza di pochi mesi, di forse un anno, poco più dalla sua nomina, vediamo iniziare con concretezza quello che è il risultato del suo operato, quindi con una programmazione rispetto ai lavori che dovranno essere fatti su una delle arterie più importanti del centro Italia. Una programmazione che viene da un lavoro, mi piace ricordarlo, ci piace ricordarlo, iniziato già da qualche anno fa con l'asse politico-amministrativo fatto tra regione Marche e provincia e governo nazionale con l'allora presidente Paolo D'Erasmo, la vicepresidente Anna Casini e l'onorevole Agostini. Oggi se ne vedono i frutti, siamo felici perché al di là delle parti politiche che vengono rappresentate, l'interesse del territorio e le opere pubbliche sono sempre sopra qualsiasi interesse di parte.